Ho presentato un lavoro dal titolo Numerical Simulation for Road Tunnel Safety e abbiamo fatto una valutazione su quello che è la propagazione dei fumi all'interno di una galleria e di conseguenza come queste vanno a compromettere l'eventuale evacuazione di quella galleria, quindi sostanzialmente un lavoro incentrato sulla sicurezza di un tunnel e delle infrastrutture viarie. Con me hanno collaborato dall'Università del Salento, Ada Malagnino, l'ingegnere Malagnino e dal Politecnico di Torino il professore Giorgio Zavarise, mentre da Enginesoft Mesagne con cui ho collaborato ci sono stati Sandro Gori e Marco Spagnolo. Devo senz'altro dire a loro grazie. Grazie a tutti.